Di Pietro scarica tedesco e salva vendola che secondo il leader dell'Italia dei Valori esce dall'inchiesta sulla sanità pugliese come parte l'ESA. A Bari per partecipare ad un incontro pubblico dell'IDV Antonio Di Pietro dice che il suo partito nella giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato voterà a favore della richiesta di arresto dell'ex assessore regionale alla sanità. Se nel processo deve essere presente vendola deve essere presente come parte offese perché è stata tradita la sua fiducia, è stata tradita la fiducia che lui ha data ai suoi collaboratori ed è evidente che se egli dà mandato a qualcuno di fare un certo lavoro e questo invece fare un lavoro per la collettività, secondo l'accuso se lo fa per sé, beh è vittima la collettività innanzitutto. Il leader dell'Italia dei Valori apre i suoi impegni baresi appena dopo il valo della riforma della giustizia da parte del Governo, con la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, un giusto processo, la punibilità degli errori dei magistrati. Per Di Pietro la riforma umilia lo Stato di diritto. Mette in capo al Parlamento la scelta di su quali reati, anno per anno, il magistrato deve indagare e quali reati deve perseguire. Scommetto che i reati saranno quelli dei poveri Cristi, mai il clandestino di turno, ma mai il reato di corruzione piuttosto che di approfittamento della casta dei soldi dello Stato.